Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. I notiziari tutti, o quei pochi perlomeno che io riesco a seguire, hanno questo vezzo detestabile di inseguire continuamente quella che loro chiamano cronaca, potrebbe essere cronaca nera, perché? Per rimpinzare il notiziario di informazioni assolutamente inutili, che non si capisce perché debbano essere socializzate, perché il notiziario deve diventare uno spettacolo, non più un organo di informazione.